55 concerti, 26 produzioni originali presentate in 12 piazze tra Abruzzo, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, partnership con prestigiosi enti, circa 30 solisti di fama internazionale e spazio a giovani talenti che si esibiranno assieme all'Orchestra Sinfonica Abruzzese. Sono i punti di forza della 47esima stagione dei concerti dell'ISA, che partirà sabato prossimo, 16 ottobre alle 18, dal palco del ridotto del Teatro Comunale Vittorio Antonellini, con un concerto affilato al direttore solista Fabrizio Meloni, primo clarinetto solista dell'Orchestra del Teatro della Scala. Una stagione d'allettante sorprese, con nuovi musicisti vincitori dei recenti concorsi Banditi dal Lente. Infatti abbiamo proprio voluto utilizzare come slogan la musica riparte, mettendo in evidenza la parte di riparte che riguarda l'arte, il gioco di parole, e è importante, è fondamentale, anche perché poi queste notizie che ci stanno arrivando possiamo riaprire il nostro teatro al 100%, quindi abbiamo la possibilità di accogliere più persone possibili e questo ci aiuterà ovviamente a recuperare anche quel contatto con la città che purtroppo in questi anni, in questi mesi, in questi due anni, abbiamo necessariamente dovuto perdere. Abbiamo fatto un'importante collaborazione con Eurculture a Roma, che è un'associazione che nasce quest'anno, quindi anche loro fanno una grande scommessa, che è allocata alla nuova di Fuxas e quindi noi faremo una serie di concerti anche molto particolari. La parte artistica è di assoluto prestigio, tradizione e innovazione, grande repertorio sinfonico e nuovi linguaggi musicali, ambiziosi progetti speciali e importanti collaborazioni. Direttori e solisti del prestigio internazionale Giovani Talenti, un programma variegato, adatto a tutti. Verrà Daniel Oren, uno dei più grandi direttori d'Orchestra del Mondo, a fare la quinta di Beethoven con Erika Piccotti, giovanissima violoncellista ma già lanciata nello Star System, con un concerto di Schumann. Verrà il giornalista Rampini a raccontarci l'economia nella musica dei Beatles. Verrà la signora Bonino a parlarci dei problemi delle carceri, sempre legati alla musica sarà scelta la musica del film Apocalisse nel deserto, ci sarà Gilda Butà con un bellissimo concerto che è quello che abbiamo ascoltato nel film Lezioni di Piano. Insomma, una stagione che abbraccia tanti stili, tanti generi per cercare di coinvolgere tutte le fasce di pubblico a nostra disposizione.